Prima di analisi pubblicità abbiamo un'intervista al sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ascoltiamo insieme. Appuntamento con Luigi De Magistris, sindaco di Napoli per commentare fatti inerenti al territorio e non solo ben trovato sindaco. Benvenuti, grazie. Dunque io direi sarei d'accordo di cominciare dai temi nazionali e quindi di commentare insieme a lei quelli che sono stati i risultati della tornata elettorale e in Emilia ma anche in Calabria. Sicuramente il test più importante da un punto di vista politico sono stati i risultati dell'Emilia laddove il centrosinistra ha resistito. Sì, i dati che emergono, il ritorno alla contrapposizione tra i due schieramenti tradizionali, centrosinistra e centrodestra, con il crollo verticale del Movimento 5 Stelle, con un risultato veramente incredibile, poco oltre il 3%. Una vittoria netta del presidente uscente Bonaccini che evidentemente ha convinto i suoi corregionali a ripotarlo, ma credo che i principali artefici del successo in proporzione anche così forte tra centrosinistra e centrodestra sono le Sardine. Io credo che le Sardine hanno iniettato entusiasmo, voglia di andare a votare e soprattutto una mobilitazione anti Salvini. Quindi credo che anche chi magari non fosse così convinto della bontà della proposta del centrosinistra, mi ha andato a votare Bonaccini anche per arginare la conquista dell'Emilia Romagna da parte di Salvini. Per quanto riguarda invece la Calabria c'è un risultato netto, schiacciante del centrodestra che vince anche con un candidato non particolarmente forte. Il centrosinistra va molto male, non credo che può il Partito Democratico esultare perché il suo è il primo partito in Calabria, anche perché non credo manco che sia proprio così, perché il centrodestra si è diviso anche in parecchie liste civiche, quindi mi sembra che quando è sconfitta è sconfitta, è inutile dire che è una mezza vittoria perché non lo è. E anche lì registriamo un crollo, seppur non così forte come in Emilia Romagna, del Movimento 5 Stelle che non entra nemmeno in Consiglio regionale perché lì c'è lo sbarramento dell'8%. E a questo punto il vero sconfitta secondo lei è il Movimento 5 Stelle oppure Salvini? In Emilia Romagna Salvini ha perso, però non ha perso in Calabria, una regione del sud dove Salvini va al governo di una regione meridionale della Calabria. Il Movimento 5 Stelle è crollato in Emilia Romagna e ha pesantemente perso in Calabria, quindi è andato malissimo. Senta, da questo punto di vista che influenza possono avere i risultati di questa tornata elettorale sui scenari della campagna in vista anche delle suppetive? Ricordiamo anche che la Cerambino ha dichiarato che non può esserci un dialogo se il punto di partenza è rappresentato da De Luca. Quindi le chiedo, è De Luca il vero ostacolo a quella coalizione civica da tempo da lei ho aspicata? Per comprendere bene quali saranno gli scenari delle regionali in campagna dobbiamo aspettare soprattutto il 23 febbraio. Sicuramente il risultato dell'Emilia Romagna indica la strada che se si va divisi il centro-destra chiaramente ha molti margini per vincere. Però la campagna può essere il vero laboratorio perché in Emilia Romagna alla fine c'è stata una contrapposizione tradizionale centro-sinistra, centro-destra, crollo dei 5 Stelle che evidentemente non vengono più considerati credibili. In campagna si potrebbe invece costruire un laboratorio diverso, più interessante anche in prospettiva cioè fare una coalizione civica regionale con un candidato credibile e forte in cui dentro ci può stare l'esperienza di Napoli per esempio l'unica esperienza di governo autonoma del paese, quindi il movimento che diventa governo e poi le forze del governo nazionale, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle con un forte schieramento anche associazionismo ed altro. E il metodo ruotolo funziona, il metodo ruotolo non ha fatto un'alleanza tema Partito Democratico come dice qualcuno, no è il metodo che è nuovo, cioè si sceglie un percorso, un candidato che unisce e non divide, che appassiona, in cui in tanti si possono riconoscere, anche gente di centro-destra si può riconoscere in ruotolo purché non siano razzisti, camorristi o fascisti e di fronte a quello si va a fare una campagna elettorale che se vinci governi in modo chiaro, netto, forte e credibile la regione e diventa un laboratorio nazionale. Laboratorio perché? Perché non è solo centro-sinistra tradizionale, cioè l'allargamento a un'esperienza come Napoli. Se invece si mettono le pregiudiziali, no, per forza deve essere De Luca, no, non vogliamo fare così, no, non vogliamo fare colì e si va divisi, è molto verosimile che il centro-destra vada in netto vantaggio. Non dico che vince, ma noi da tempo stiamo lavorando perché questo possa accadere. Mi sembra che più altri che pongono questo schema De Luca, no, anche dopo l'elezione Emilia Romagna, ho letto alcune dichiarazioni, ripartiamo da De Luca, che ci può anche stare, ripartiamo da De Luca. Il tema non è da dove parti e con chi arrivi. In attesa, naturalmente, poi commenteremo anche con i nostri telespettatori, e intanto torniamo anche alle questioni di casa nostra e recentemente abbiamo avuto la conferma da parte della Whirlpool, a proposito, lei si è mobilitato in prima persona sulla decisione di chiudere lo stabilimento che riguarda Napoli. Come si fa però a non perdere dei poli produttivi così importanti come quelli della Whirlpool? L'abbiamo già detto, se uno pensa che la Whirlpool cambia idea, vuol dire che si sta rassegnando alla sconfitta e sta solo procrastinando in avanti la data in cui ci sarà la fine della Whirlpool. Quindi ci vuole una grande mobilitazione del Governo. Il Governo deve indicare la strada, noi gliel'abbiamo suggerita, siamo pronti ad accettare questa sfida innovativa dove si metta dentro i lavoratori, le lavoratrici, i sindacati, la città, la città metropolitana, la regione, il Governo. Bisogna avere coraggio, vediamo se questo Governo ha la voglia di indicare e percorrere anche strade nuove. Senta, noi ci troviamo a Prato San Giacomo e ci sono delle criticità che riguardano comunque queste ultime ore nel preciso della Corte Costituzionale che ha ribadito il divieto di utilizzare le anticipazioni di liquidità dello Stato per nuove spese e nuovi investimenti. Sicuramente una decisione maturata in seguito ad una disputa che riguarda proprio per la Ponte Comune di Napoli. Quali possono essere però gli effetti sul bilancio comunale? Io purtroppo devo dare in questo caso una brutta notizia a chi in modo molto frettoloso ha gioito sulla fine del Comune di Napoli, della città di Napoli e del dissesto. Devo ulteriormente ancora una volta dare una brutta notizia che noi supereremo anche questo ostacolo. è come il salto in alto. A noi ci mettono sempre l'asticella più in alto. Ne sappiamo bene i motivi, sappiamo bene le ragioni, ma il Comune di Napoli non farà mai raggiungere a qualcuno l'obiettivo di far crollare una città per ragioni che non hanno nulla a che vedere con i valori costituzionali, con la giustizia sociale, con la corretta amministrazione e con la trasparenza. Quindi noi andremo nella direzione che abbiamo già costruito perché noi reggiamo, perché preveniamo sempre dove altri vogliono andare e sappiamo perfettamente come si è arrivati a questo punto. ovviamente al Governo spetta intervenire con una norma, perché la Corte Costituzionale non boccia il Comune di Napoli, la Corte Costituzionale boccia una legge del Parlamento italiano. Quindi se c'è stata qualche valutazione non corretta, noi siamo fiduciosi che il Governo intervenga immediatamente, che il Parlamento faccia la sua parte e il Comune di Napoli continuerà come sempre nella strada ostinata e contraria di voler far prevalere diritti e giustizia rispetto a delle interpretazioni certe volte molto formali che non hanno nulla a che vedere con la vita democratica del nostro Paese e soprattutto con i diritti degli abitanti di questa città. E quindi in merito a tal argomento la soluzione deve essere assolutamente politica? Normativa, istituzionale, politica, amministrativa. Quindi noi siamo molto tranquilli, come sempre gli ostacoli hanno l'effetto di darci ancora più carica. Quindi i napoletani non si preoccupi, il Comune di Napoli non va in dissesto e quindi leggo dichiarazioni allarmistiche, imprese che falliranno, città che crolleranno, niente, non c'è nessun pericolo di questo tipo. Ci dispiace che, come dire, sempre a Napoli accadano certe cose, ma evidentemente è perché Napoli sta andando bene nella direzione del cambiamento e quando si cambia non tutti sono sempre pronti a capire che cosa sta accadendo. Naturalmente le criticità, le abbiamo commentato anche scorse volte, le difficoltà che riguardano anche il nostro capologo partenopeo in merito alla viabilità, ma in seguito ad un incidente sicuramente non voluto, capitato, e lei in prima persona si è mobilitato e ha fatto richiesto, ha fatto appello per il dissequestro dell'area interessata all'incidente. Quali possono essere gli sviluppi però? Ecco, questa per esempio è una cosa che paradossalmente mi preoccupa molto di più della Corte Costituzionale, ovviamente con il grandissimo rispetto che ho per questa sentenza della Corte Costituzionale come per l'istituzione tutta, perché ormai da circa 15 giorni la città in ginocchio è tagliata in due per l'incidente che è avvenuto su una tratta nord della linea 1 della metropolitana di Napoli conferiti. Allora, noi auspichiamo da una parte che la magistratura faccia l'indagine la più ampia possibile, quindi che attenga anche alla complessiva situazione di quello che accade in metropolitana. Noi abbiamo segnalato già da tempo che c'erano cose che non andavano, di altro tipo, così come su questo incidente è bene che si facciano indagini più approfondite, però faccio anche appello alla magistratura, l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto, insomma sono passate due settimane, insomma io credo che è venuto il momento di consegnare alla città, non credo ci siano ancora quelle ragioni che giustificano il mantenimento del sequestro, cioè questo sequestro sta mettendo in ginocchio la città, abbiamo la zona ospedaliera bloccata, le ambulanze che ci mettono un'ora ad arrivare, ho posto al prefetto una questione di sicurezza pubblica, io lo devo dire, ho il dovere di dirlo, quindi questa non è una critica, attenzione, non voglio mai essere equivocato alla magistratura, anche perché ho fatto il magistrato, però credo che siamo arrivati al punto che si può coniugare i tempi dell'accertamento della verità, un'indagine approfondita a 360 gradi, il diritto della città a non vedere bloccati alcuni binari che stanno comprimendo il diritto alla sicurezza, il diritto alla mobilità e creando dei disagi davvero gravi alla nostra città, quindi io mi appello alla sensibilità, all'autonomia, alla professionalità della magistratura che se non ci sono più ragioni, come io personalmente e umilmente ritengo, di restituire il pezzo di binario sequestrato in modo da consentire, come ci ha detto ANM, nel giro di 24 ore, questo è quello che mi ha detto ANM, ha bisogno poi di 24 ore per rimettere in circolazione la tratta, quindi bene questa domanda, così chiariamo anche ai cittadini che a certe volte mi scrivono, sindaco fai ripartire la metropolitana, il sindaco rilancia dalla telecamera di Canale 9, magistratura consentici di far ripartire la metropolitana di Napoli, questa è la verità, non è polemica ma è verità, è la verità bisogna dirla, soprattutto noi che abbiamo il quadro complessivo della situazione. Come diceva lei, l'area è interessata soprattutto all'area nord di Napoli, però c'è anche una buona notizia, ovvero il ritorno del tram che da piazza a municipio giungerà a porgio reale e questa comunque è una bella notizia da dare anche ai telespettatori e ai cittadini. Ma sì, perché noi purtroppo è accaduto questo incidente grave, con conseguenze per fortuna non gravissime, sul piano della salute, ma stiamo continuando su quel cronoprogramma che ci demmo, poi magari ci ritorneremo nelle prossime puntate, di obiettivi che ANM deve raggiungere, perché il Comune di Napoli ha messo ANM nelle condizioni di raggiungere quegli obiettivi. Uno dei primi obiettivi era proprio questo che ha ricordato lei, cioè la ripresa del tram importantissimo che va da qua, da piazza a municipio a Poggio Reale, poco dopo, nel giro di qualche settimana, avremo anche il tram che non andrà solo verso il centro, quindi piazza nazionale Poggio Reale, ma andrà anche verso Napoli Est, quindi Corso San Giovanni e questo è un altro obiettivo perseguibile nel giro di pochi giorni. Sappiamo che la sua agenda è piena di impegni, non ne rubiamo altro tempo, intanto grazie al sindaco di Napoli Luigi Di Magistris e sempre buon lavoro. Grazie.